Musica Buonasera a tutti, sono Katia Piazzi, rappresento Coppercrest in Italia. Sicuramente sono tante le cose che ci legano a Aristogolf, l'umanità, il rapporto che si ha con tutti, da Dario a tutti gli chef, il verde, che per noi è fondamentale, e il clima di benessere, che si respira sempre. Sicuramente sono tre valori di Coppercrest in generale, che si respirano ad ogni tappa di Aristogolf.